Vai Maurizio! Vai Maurizio! Bravo! Le basi del trial Le basi del trial Ristudiate mentalmente Ristudiate a presto ma sentivo qualcosa in mezzo alle gambe porco giuda che cazzo è era piccolo era piccolo non cercare scuse dai è uno mi è partito uno mi è scappato mi ricordo come si chiama il ragazzo qua luigi anche lui bravo